Abbiamo pubblicato i dati ufficiali, li renderemo noti anche adesso. La vera svolta è che grazie al nostro impegno si stanno recuperando impianti che erano totalmente fatiscenti ed obsoleti e grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme in questi mesi da tempo, ben prima della recrudescenza criminale tra Comune di Napoli, Prefettura di Napoli, in particolare mi riferisco al Prefetto Pantalone e alla sua struttura e a Enem noi stiamo andando nella direzione giusta di ottenere non solo il funzionamento del 100% ma anche di averne oltre e questo è frutto di questo nostro impegno anche della decisione presa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha finanziato, dopo vi faccio avere nel dettaglio i numeri, un intero progetto di messa in sicurezza con impianti finalmente non obsoleti ma effettivi, la video sorveglianza nella nostra città con un finanziamento pon sicurezza di diversi milioni di euro quindi noi abbiamo dati assolutamente incoraggianti e di inversione di tendenza rispetto a quei numeri che avete indicato voi. Il reddito di cittadinanza è una riforma che io condivido molto, mi auguro che il Parlamento dove c'è una proposta del Movimento 5 Stelle venga approvato, anche noi lavoriamo molto in questa direzione senza risorse per colpa del Governo e del Parlamento, cioè cercare quello di ridurre le disuguaglianze sociali nella nostra città e quella per esempio è una riforma interessante che deve andare in un'ottica di sostegno a chi si trova in difficoltà ma non come poi assistenzialismo cronico ma come capacità di rompere disuguaglianze sociali e aiutare tutti a entrare nel mondo sociale del lavoro e delle professioni.